Lavorioso, questa partenza è stata un po' laboriosa, due sostituzioni di ruota ai sulchi, comunque tutto bene. Buoni quattro anni sul doppio chilometro, il clou di questo pomeriggio, otto in primo e in secondo. Un etual gar, Mario Minopoli, uno è la più gettonata. Mezzo meccanico in movimento, quattro anni, doppio chilometro, quinta, clou del pomeriggio. Inizia a prendere velocità il mezzo meccanico, buono l'allineamento e anche il lancio. Urceus dal centro impegna Usago Lewis per il comando all'attacca della piegata, ma Usago allunga, Urceus si fa spazio, poi c'è Ulisse. E' partito bene anche underground, al comando il numero uno, Usago Lewis. Lancio addirittura in tredici e nove, sostanzioso per il Lewis, ma ora l'Omino può già un po' graduare dopo lo strappo e va a completare il quarto iniziale e sostenuto in 28,7, ma 14,9 di frazione. E' cavalli che affrontano ora la seconda curva, con Usago che amministra ulteriormente i Birilli e percorre i 600 in 43,9, tutto sommato ancora brillante l'andatura. Si affaccia Ursus-Kaaf sui primi e Ursus gradatamente va a largo di Urceus. Mezzo miglio, nell'ordine dell'un minuto e qualche spicciolo, e Ursus-Kaaf va al salchi del leader. Galoppe il 5 di hard and ground, fuori corso il 9 di un vero HBD. Chilometro sostenuto sul mio in 14,9. E' cavalli che affrontano la penultima curva e si è formata una seconda fila a largo, sempre con Usago al comando, Lubresson-Louis di Luongo. Frazioni in 15,6, ora di tranquillità o quasi. Cavalli di fronte, intanto Ulisse ha preso la scia di Ursus. Paletto dei 600 finali, non avvengono variazioni, ma si allunga, poiché fanno 14,1 di fronte. 500 alla meta, i cavalli affrontano la curva finale. Si va a un miglio piuttosto effrizzante, 1,58 e 6. E Usago riparte dopo lo stop and go. Fuga per la vittoria o tentativo di Usago. Usago allunga, prende vantaggio, è in fuga, va in carburation, un etual gar. Usago ancora con buon margine, un etual, cerca l'aggancio, ma il palo si sta avvicinando. Non c'è più tempo, l'omino ha preso tutti in contropiede. Terzo, un ottimo Ulisse con lo svizzero pistone. Io leggo 1,13 e mezzo, 2,27, io ho 2,28 e 4 da seguire un po', ma secondo me avranno fatto tanto. E' andato al comando, uno stop and go veramente di rare efficace dell'omino che continua nel suo momento magico. Un etual gar fa di tutto, corre alla grande. E chi è che stracorre questo Ulisse dello svizzero pistone da seguire per la prossima? Usago, 7 euro in chiusura, indovinate un po', Osvaldo Tomaselli al training, mai orso la proprietà, ma in salchice lui, Vincenzo Luongo. Linea allo studio. Linea allo studio. Grazie a tutti.